Il cubo di Rubik. Questa è l'interpretazione alla risoluzione del gioco da parte mia. Prendete un normalissimo cubo, completamente mescolato e di facce tutte diverse, come potete vedere, e una scatola molto particolare. Aprite la scatola, prendete il cubo e lo posizionate all'interno della scatola. Ricchiudete la scatola e con un gesto magico guardate cosa succede. Prendete il cubo e lo fate vedere, completamente risolto da tutte le facce. Vedete? Bello, eh? Però il gioco non è finito qua. Tu prendi il cubo, lo rimetti dentro la scatola e chiudi la scatola. Un altro gesto magico e cosa succede? Le facce sono tutte, completamente, giacolate. Ciao e alla prossima!